come come stanno i tempi viaggirato forte giuliano 3.58 diciamo chi va forte forte 4.06 va bene dai puntiamo sotto i 5 ciao Grazie a tutti. 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 9 secondi migliato. Io ho trovato un tappo di Yobono. Sì, quello con questo qua. Sì, l'ultimo, quello che dice adesso. Bella, eh? Bella, eh? Bella, eh? Bella. Più aperta. Più aperta. Invece è parecchio bugata. Hai fatto il taglio all'inizio? Il primo taglio l'hai fatto? Un rinco. È un rinco.